Ehi, 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 ehi Sì, sì, sì Diretta dal palatenda, terza giornata di promozione, campionato del centenario 100, girone B, sfida tra basket, mister bianco in maglia bianca, maglia blu, cestistica e trena basket. Il giro è un buon luogio, ma la gasta. Il giro è un buon luogio, ma la gasta. La gasta va in un finale. Sono belli, sono belli. Vai già qui! 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 Vai qui! Guarda! Vai da lì! Cosa, cosa, portiamolo! Guarda! Vai da lì! 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 Warla Pinto della squadra! Guarda! Guarda lì! Guarda! 3 a 0, orsino B, come dia dal الذي è marastrui spiesensiche i quarterscause! Guarda lì! Guarda lì! Guarda lì! Guarda lì! Guarda lì! Guarda! Guarda lì! Guarda, lì c'è la squadra di marocchia! Guarda scelinare, guarda lì, saluta bianca! Guarda gli preparatini. Guarda alla scena lega in un nuovo! 3 a 3, Ricciardello. Grazie a tutti. 5 a 2 per Mr. Bianco. 6 a 2, 8 e 12. 6 a 4, 7.050. 6 a 3, 8 e 12. 6 a 4, 7 minuti e 20. Grazie. 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 Grazie a quello. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. a 6 8 pari 5 e 20 8 a 9 8 a 9 la migliore 10 9 eugenio eugenio a chi a chi a giallura no non è equilibrato si 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 poi la marcia in bordo proviamo un attimino sento che possa qualche passaggio in bordo siamo facenti in atta vai vai Fabrizio 10 pari no 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 questi qua siamo Alessandro non poteva venire oggi bravo vai 10 12 4 e 10 c'è 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 però 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 si però si atta Sì, 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 sì. Se ce l'aveva fatto, ce l'avevamo fatto, sicuro. E' lo gioco intero il titolare antiano. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Timeout. Quattro vali. Poi niente, la panchia si alza qualche ragazzo di tutti i giorni. Il quinto fallo già vai a tirare. Eriko, 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 Eriko. Ok. Andrea vai a tirare. Vai, deve stare molto avanti della riga. Giusto, giusto. 10, 14, 2, 27. Vai ragazzi. Vai, vai. Grazie, grazie. Valla a volo, la fischia, la fischia! Bella! 10, 16, 1 e 0, 5. Mi da me la schiena. Valla a volo, la fischia! Scusa! Vai, adesso, bravo! Infensive non c'ho, infensive! Infensive! Sono con l'Andrea! Non c'è, non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è! Non c'è! 12, 16, 48 secondi. Non c'è, non c'è! Non c'è, non c'è, non c'è! No c'è, non c'è! 12, 18, 10 secondi fine primo quarto, 12, 18, mister bianco contro cestisti e tnea aspettate palmarossi attraverso Grazie. Secondo quarto. Bravo, Ripo. Il nostro mascherato. Grande! 12-20. Hai mascherato. Non lo so, Ves. 14-20. 9-30. Secondo quarto. Siamo. Buona, Beppe. Buona, Beppe. 14-22. Yeah. Yeah. Vai, Beppe! Vai, Beppe! Buona, Beppe! Buona! Buona, Buona! Sono basso! Vai, vai! Buono! Merico! Quanto pare? Primo fallo per Corselli, 8-0-9 alla fine del secondo quarto. Non è sulla linea. Non è sulla linea. 16-22-8-09. Sì, sì, c'è la zona. 18-22-7-50. E' la scrisse! Sì, sì! Sì. Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Buona. 21-24. 5-4, 5-16 alla fine del secondo quarto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 21-21. 21-25. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pallo. Buona. Grazie a tutti. 21-21. 23-23. 23, 32, 3, 45 bravo 23, 34, 3, 25 bravo Andrea Buon Andre 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 Buon Andre